Un inizio d'anno di certo memorabile per il fortunato acquirente di uno dei biglietti vincenti della Lotteria Italia, venduto nei prestiti Caserta. Il biglietto di serie Q, numero 146948, venduto negli ultimi giorni prima dell'estrazione dell'Epifania, porterà nelle tasche del vincitore la cifra da capogiro di 2 milioni di euro, quale secondo premio della Lotteria di quest'anno. Il tagliando fortunato è stato acquistato in un punto vendita all'altezza del casello autostradale di San Nicola la strada e, come ci confessa il titolare, si tratta della prima vincita nel suo centro. Speriamo che sia andata una persona che ha bisogno, perché certe volte vanno i soldi a chi ha i soldi. Speriamo che è una persona che ha bisogno e speriamo che gli abbia portato fortuna. Io penso che è stato venduto gli ultimi giorni, perché la serie ci è arrivata l'ultima, le ultime serie acquistate praticamente. Una probabilità su 8,7 milioni di biglietti venduti, che rappresentano un incasso di 43,5 milioni di euro e che segnano più 13,5% rispetto all'edizione dello scorso anno. Tra le prime 5 città per incassi, proprio Napoli in terza posizione, con oltre 425 mila tagliandi venduti.